Stiamo effettivamente ad aprire il secondo convegno Machiavelli Cultura che quest'anno è dedicato al tema difendere la nostra storia. Abbiamo scelto questo titolo perché ci sembra che riesca a comunicare più di quello che dice in maniera esplicita. Innanzitutto destinare un evento sulla cultura al tema alla storia serve ricordarci che la cultura di un popolo non vive solo nel presente ma anche nel passato. Lo stesso termine cultura fino al 600 grossomodo stava a indicare soltanto la cultura individuale, la coltivazione della propria personalità. Ancora solo nel 700 incomincia ad esserci anche l'accezione collettiva, quindi l'idea di cultura come insieme dei modi di vita, di pensiero e di espressione di un popolo. Fino a quell'epoca per questa concezione si usavano altri termini, termini che rimandavano chiaramente al passato. Tradizione, ciò che è stato tramandato dagli antenati a noi, consuetudine, ciò che era abitudine fare da chi ci ha preceduto. Se la cultura di un individuo, pur ricevendo dal passato, sicuramente vive, si sviluppa, si forma nel presente, la cultura di un popolo è incendibile dal suo percorso storico. Volendo usare un'immagine figurata è come una pianta che affonda le sue radici nel terreno, quel terreno è la storia, la pianta può sicuramente crescere in verticale, può mettere nuove fronde, frutti, produrre semi, ma non può muoversi da quel terreno se non sradicandosi e dunque condannandosi a morte. Questa è la visione conservatrice del vivere in armonia con la storia, quindi non essere effimeri, ma essere parte di qualcosa che è stato, che è e che sarà. Quindi la storia non come un mero insieme di raccolta di nozioni sul passato, ma come identità. Ci dice chi siamo, nasciamo in una storia e la portiamo avanti. Secondo punto, nel tema di oggi facciamo riferimento a difendere, quindi chiaramente alludiamo al fatto che c'è un attacco in corso contro la nostra storia. Questo attacco penso sia abbastanza evidente da dove provenga, c'è oggi una ideologia dominante che ormai già da tempo purtroppo ha travalicato i confini dell'università, che è stato il primo fortino che ha conquistato, ormai egemone nei media, nell'intrattenimento, nella comunicazione, nella narrazione in generale. Questa ideologia che in America chiamano woke, che è essenzialmente una figliazione del neomarxismo, a me piace considerarla, non sono solo in questo, l'ultima ipostasi del comunismo, è un'ideologia chiaramente antioccidentale, che vede nell'Occidente in male assoluto. La sua narrazione della storia è quella di una sorta di Eden incontaminato, che a un certo punto viene corrotto dalla malvagità dell'uomo bianco, che vi porta all'oppressione, all'assfruttamento, la guerra, il razzismo e tutti gli altri mali esistenti. È chiaramente una visione molto riduzionistica, una visione animata da un odio cieco di tipo razziale, cospirazionista anche nel vedere questo incessante ruolo dietro le quinte dell'uomo bianco, che mi fa venire in mente l'antisemitismo del tempo passato, con la pretesa di voler vedere gli ebrei dietro ogni male. E non è forse un caso che anche oggi l'ebreo sia poi accomunato dal vuochismo nello stigma che colpisce l'uomo bianco, e anzi spesso è bersaglio degli attacchi più virulenti, come stiamo vedendo proprio in questo periodo, sotto il pretesto, e sottolineo il pretesto, della guerra a Gaza. Guerra a Gaza che mi permette anche di menzionare molto brevemente il fatto che, se da un lato abbiamo questo attacco interno, che è un attacco di tipo culturale, dall'altro abbiamo un altro attacco contro l'Occidente, è un attacco molto più violento e sanguinoso, è quello che viene condotto dall'ideologia islamista, sono ovviamente due attacchi separati, ma hanno una cosa in comune, anche l'islamismo ha una visione cospirazionista e demonizzatrice della storia occidentale, perché ritiene che i cristiani ebrei da secoli complottino e cospirino per indebolire l'Islam. E' noto, questo solo come curiosità, senza voler suggerire nulla, che se il uochismo è sicuramente un fenomeno endogeno all'Occidente, molti dei suoi assertori sono persone che hanno un retroterra extraeuropeo, a partire da Eduard Said, di origine palestinese, che negli anni 70 ha gettato le basi per quello che oggi è noto come la decolonizzazione del sapere, che sarà anche oggetto di un panel apposito. Terzo e ultimo punto, il termine difendere trasmette anche altro, avremmo potuto scegliere per esempio il termine proteggere, abbiamo scelto difendere per il significato etimologico, difendere significa allontanare colpendo, difendere significa fronteggiare il nemico, significa combatterlo. Pensiamo che sia finito il momento della passività, non ci si può aspettare che il uochismo e l'attacco contro l'Occidente semplicemente svaniscano un giorno in maniera spontanea, magari sotto il peso dei loro eccessi. Tante tante volte leggiamo delle ultime stravaganze uoch e le troviamo ridicole, ne sorridiamo, ma non dobbiamo mai dimenticarci che molto di ciò che oggi è senso comune, vent'anni fa appariva ridicolo e stravagante. Molto di ciò che oggi appare ridicolo e stravagante, fra vent'anni sarà senso comune, se non invertiamo ovviamente la rotta. Quindi dobbiamo renderci conto che il nemico sta avanzando e sta vincendo, che non possiamo tapparci gli occhi e sperare che poi riaprendoli sia sparito, come un mostro immaginario. Questo mostro è molto reale, va combattuto e lo si vince tagliandogli la testa. E a proposito quindi di difendere, io mi auguro che qualche fendente in tal senso verrà anche dal dibattito odierno. odierno.